E' un rapporto al quale teniamo particolarmente anche in virtù del fatto che l'Istituto Baluardo è centro federale di medicina sportiva, quindi la collaborazione con il CONI e con le federazioni sportive è un fiore all'occhiello per noi. A simbolo di questa collaborazione, anche quest'anno a festa dello sport, condividiamo lo stand con il CONI e con la federazione del tiro a segno. Ogni anno SILAB è sempre molto generoso fondamentalmente sulla parte sportiva per cui ci accoglie per portare anche la nostra disciplina all'attenzione di tanti ragazzini che forse anche per il posto in cui siamo molto fuori dalla città hanno un po' meno accesso e possibilità di conoscere la nostra disciplina. SILAB in questo è sempre stato veramente garante di questi principi di divulgazione dello sport. Per SILAB il Baluardo lo sport significa anche salute e significa prevenzione che è uno dei valori portanti sul quale il nostro gruppo fonda la propria attività. E' bellissimo essere in un contesto in cui ci sono tanti giovani e tanti ragazzi che imparano ad approcciarsi a uno stile di vita salutare e ci piace essere parte di questa promozione. In questo 2024 con l'Istituto il Baluardo siamo diventati anche centro federale di medicina sportiva quindi ci aspettiamo una buona collaborazione con le squadre del territorio, con le federazioni del territorio e speriamo di poter portare le competenze del nostro team di professionisti, un team multidisciplinare a disposizione degli sportivi della Liguria.